è indistinto mettiamoci qua si perché così io ti faccio a te io già sto a fare il video facciamo il video ma dove sto con l'unico ma dove sto con l'unico ma non mi ha ascoltiati magari non me lo faccio niente ma non mi ha ascolti ma non mi ha ascoltato ma non mi ha ascolti il ductore la scara del iguaso il ma st Grazie.